eccoci qua ragazzi, scusate per... oh madonna mia... ok così... devo assumere un cameraman... mi sa che abbiamo schiacciato qualche cimice... ragazzi siamo arrivati qua davanti al... aspetta al cimitero... seguimi vieni qua... ma io non riesco a mettermi in un quadratura manco da... ok stai ferma... attaccati... ok... e adesso entriamo... non riesco a vedere Tati perché sta sempre dietro di me... qui? ma io sono qua dietro... a fianco di di me... così? ma anche no cioè... si è nascosto di nuovo... guarda che è uno spettacolo... no dai... c'è un altro... beh beh... che hai? tutto bene? scusate ragazzi... vabbè... intanto quella Tati si riprende qui... noi facciamo il giro dentro... allora... per farvi vedere... radura di radura... ok... adesso è una storia... ma davanti abbiamo uno spettacolo... questa è una maniera di cimitero... ma che praticamente... tecnicamente... nel cimitero ci siamo sopra qui i nostri piedi... ovviamente sono passati un sacco di anni dall'ora... quindi... poi dopo tutti questi anni sono passati a saccheggiare... insomma... ho fatto delle cose orribili... intanto la nostra Tati si è ripresa... tutto ok? eccoci... eccoci... niente... come... anche quando avete visto già altri video... alla fine... il posto è rimasto sempre uguale... eh... a parte... a parte tutte queste scritte... una cosa non c'è... ah si eccolo... il telo... apri il lato... 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 no... c'è un pezzo di chitarra... ma che puzzata? ma quello non c'era... la roba lì... è una torta... è una torta... e lo regghi è tutto... allora... non... 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 Ciao! Ciao! Mi piace comunicare con noi? Mi piacerebbe! Ciao! Ciao! No, non lo tengo a... Guarda qui. Ma è la moglie? Non so, fa tanto tanta roba. C'è un piccolo ritaglio. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Sto apriendo come se non ci fosse un domani. Lo vede la videocamera? Sì. Guarda, guarda! Ma lo stanno mettendo tutto o è quella che vedrà? Tutto. Non lo so. Non so che è questa, perché sarà tecnicosiva. Ah, ok. Non lo so riprendere di nuovo? Ho scelto col mano, per favore. Vai, fate. Me lo fai brillare? Per favore? Là? Là dove? Dobbiamo avvicinarci l'altare? Dai, prendi l'energia della videocamera. Questa è qui. Eh? Salve. Ciao. Sì, c'è con le noti. Allora? Non volete comunicare? Ora. 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 Infatti si ha brillato. Ok. Ha brillato? Sei dietro di me? Se la fai a toccarmi? Sì. Sì. Mi va detto? No. Non senti più. Ma non ho mai sentito quelli bassi. Mi, no. Sì. Scusateci i vostri nomi! Ciao, sei qui vicino a me? Lo conosci, Marcus? Sai chi è, Marcus? Sapete cosa è stato fatto sopra la chiesa? Si o no? Decidetevi! E' stato fatto un rituale? Demonia coltello! Aspettate ragazzi... E' una donna con brillo! Ha brillato? E' una donna con brillo! Aspettate ragazzi che... Aia! Si, accaduto qua! Guarda! Guarda, guarda, guarda! Fra! Davanti! Davanti! Qua! Qua davanti! C'era una bambola qua! Che fine vi avete fatto fare? Allora... Allora sì, come se... Eh, certo! Un gruppo! Te la sono portata via? Un gruppo! Cosa ha fatto? Cosa ha fatto questo gruppo? Un gruppo! Un gruppo! Debil! Un gruppo! Ehi! Un gruppo! Non ci vuoi cambiare? Ce l'hanno con te?! Atteniamo! Hanno dato il fuoco a partita in guerra con il quadro Continua, continua a parlare Quindi un gruppo ha portato via la bambola, un gruppo di persone? Ok Non ti piace questo gruppo di persone, vero? Chi erano, satanisti? Erano ragazzini? Guarda brillato, hai visto? Erano ragazzini? Erano ragazzini? Sì Mi piace il tuo nome? Studio per star Guarda, guarda brillo Ma noi ti siamo simpatici? Sì o no? Puoi dirmi il tuo nome? Smil? Smil? Non è roba di genere Asmir? Non è da tanto tempo che tu sei qua, Smil? Ti hanno evocato L'��ico Halloween Della se riuscite riuscite a muovere una pietra a muovere una pietra a muovere una pietra